Elezioni in Umbria, oggi si sta votando. Salvini, dopo gli insulti di Conte, Di Maio, Renzi, dice ma mi insultano, mi fanno l'effetto che hanno i simpatici moscerini sulle vacche. E aggiunge questa manovra economica, fra tassa sulle bibite, tassa sulla plastica che diventa sui consumatori, tassa, 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 non avevate detto che andavate al governo per tagliare le tasse, l'unica vostra ossessione sono la Lega e Salvini. E poi dopo aver paragonato il governo a dei simpatici moscerini sulle vacche, risponde anche al Presidente del Consiglio, dice oggi è andato a prendere in giro gli artigiani, ma molti gli hanno fatto capire che non si fanno prendere in giro. Questo sì, nel senso che Conte pensa veramente che il popolo italiano non capisca, che non abbia un cervello minimo per capire le sue prese in giro dall'accordo di Malta, quella buffonata, che questa è una manovra espansiva, una manovra che guarda al futuro, ma dove guarda sta manovra, sta manovra guarda alle tasse, altro che al futuro, non guarda nessun futuro. Poi parla del sindaco di Roma, Virginia Raggi, e dice è una sciagura, una calamità fatta a persona. Zingaretti nell'ultimo comizio di ieri aveva attaccato duramente Salvini, dicendo davanti avremo dei mesi molto difficili e dunque dobbiamo combattere, ma siamo stanchi dei Matteo Salvini, al plurale, no? Che è forse il migliore a raccontare i problemi delle persone, ma il peggiore a risolverli. E aggiunge, perché usano i problemi per violentare e spaventare i cittadini. Che brutta espressione, che brutta, brutta espressione. E poi aggiunge, con le stupidaggini, con le cretinate, le tasse sulle casette di sicurezza, casette di sicurezza, la flat tax, le mangiate che si è fatto sono costate agli italiani. Le mangiate. Incomprensibile, eh? Ed è bastato che lui se ne andasse per far scendere lo spread. Siamo passati dalla raccolta del consenso dell'ubriacone del papete all'abolizione del super ticket della sanità. Il consenso dell'ubriacone del papete. Che meschino, mamma mia. L'ubriacone del papete. Prima di tutto Salvini non è un ubriacone. E poi è stato in questa spiaggia, visto che era lì a Milano Marittima, è andato lì e c'era una festa sulla spiaggia, come ce ne sono dappertutto, no? Voi passate sulla spiaggia, a volte ci sono delle feste dove ballano, dove c'è il bar, dove ti puoi prendere un drink e guardare la gente che si diverte, divertirti anche tu. Quindi parlare dell'ubriacone del papete è una menzogna, una cattiveria senza nessuna logica. Poi, attenzione, riguardo lo spread. Lo spread è sceso anche, dico anche, non solo perché è cambiato il governo, perché l'Europa era litigiosa col governo precedente, quindi con questo però è sceso, perché lo spread, che cos'è? La differenza tra gli interessi che si pagano sui bot tedeschi, che si chiamano bond, e gli interessi che si pagano sui bot italiani. Interessi tedeschi e interessi italiani. La differenza tra i due interessi è il nostro spread. Cosa succede? Che quando l'economia tedesca va bene, come qualunque economia, va forte, lo spread si riduce, perché le persone hanno fiducia e più persone comprano i titoli di Stato tedeschi. Comprando più persone è la legge della domanda e dell'offerta. La Germania propone questo numero di buoni ordinari del tesoro che chiamano bond. Se le persone che vogliono comprarle sono molte, molte di più della offerta, perché si fidano alla Germania che l'economia va bene, il prezzo, cioè la Germania paga un interesse più basso. Se l'economia della Germania va male, cosa succede? Che la Germania offre un certo numero di titoli di Stato, però ci sono meno persone che preferiscono comprare i titoli di Stato tedeschi perché la loro economia sta andando male e preferiscono comprarli di un altro paese. Quindi la Germania offre il suo numero di titoli di Stato e ci sono meno persone che comprano. Quindi offerta meno persone che comprano per invogliare la Germania a comprare i suoi titoli di Stato deve alzare l'interesse. Quindi alzando l'interesse dei titoli di Stato tedeschi si avvicina di più a quello dei titoli di Stato italiani e diminuisce lo spread. Questo è anche come lo spiego ai miei alunni all'università. Intanto tornando all'Umbria tutto il governo si è presentato al completo. C'era Speranza di Leo, c'era Di Maio 5 Stelle, Zingaretti del PD e c'era anche il mismissimo Giuseppi Conte, il presidente del Consiglio, che dice ma no io non sono qua per le elezioni. va in Umbria, che neanche si ricordava che esistesse quella regione, va in Umbria a due giorni dalle elezioni, no non sono qua per le elezioni, sono qua per il terremoto. Ah sì? Questa è l'ennesima riprova che pensa che le persone siano stupide. C'è un tipo, tutti voi conoscerete tra gli amici, tra i familiari, c'è un certo tipo di persone che pensa di essere più furba degli altri, che pensa di raccontare delle balle e che gli altri ci credano perché lui è una persona superiore che gli altri sono tutti cretini, no? Quindi non era lì per le elezioni, era lì per il terremoto, ma pensa un po'. Ma pensa un po'. Però mi ha fatto ridere uno, un titolo del giornale .it che dice così il titolo 5 stelle e PD, patto di Narni con una sola strategia, schiantarsi tutti insieme. Mi ha fatto ridere perché c'è la foto di Speranza, Zingaretti, il loro candidato presidente alla regione, Di Maio e Conte, no? Tutti insieme, no? E mi ha fatto ridere il titolo strategia schiantarsi tutti insieme, perché se è vero che al 99,9% vince il centro-destra con una distanza grande, da 6 a 10 punti percentuali, recuperare da 6 a 10 punti percentuali è tantissimo, difficilissimo riuscire a far cambiare l'opinione al 10%, al 6%, un conto se erano testa a testa, ma questa non è regione da testa a testa. Andare tutti lì, compreso il presidente del Consiglio, stanno facendo capire che quell'elezione lì è uno spartiacqua importante, una prova dell'alleanza di governo grande, perché poi da lì si vede se andare avanti nelle altre regioni o no. Quindi andare lì tutti assieme sembra, come dice il titolo del giornale punto it, strategia, schiantarsi tutti insieme. Fantastica questa definizione. Ma attenzione, Rocco Casalino, il portavoce di Conte, l'avete già sentito nominare, Rocco Casalino, non vi ricordate il grande fratello? Adesso non mi ricordo che nominio ne gli avevamo dato, ma non importa. Rocco Casalino, ex grande fratello, ora politico, portavoce del presidente del Consiglio, che guadagna una balanga di soldi, bene per lui, sei riuscito, sei una persona di quelle furbe, perché sei riuscito dal grande fratello un po' di televisione, sei adesso portavoce del presidente del Consiglio. Complimenti. No, sinceramente, sinceramente complimenti per essere riuscito ad arrivare lì. Andava in giro ieri dicendo a spiegare ai giornalisti che siamo certi di vincere grazie a Conte e al suo tocco magico. Beh, complimenti, di Rocco Casalino. Veramente. Tanto di cappello. Intanto un parlamentare dei 5 Stelle dice, sotto banco, da soli avremmo straperso, ora l'importante è non perdere male. Cioè, diciamo, meglio, speriamo di perdere di poco, no? In modo da non fare una bruttissima figura. Intanto Salvini dice, ma che vergogna, fanno aumentare i prezzi di largo consumo. Ma che plastica? Raddoppierà pure l'acqua. E aggiunge, e aggiunge, Conte si è montato la testa, ma lunedì torna con i piedi per terra. E poi aggiunge, a proposito di tasse in manovra, solo quella sulla plastica farà aumentare del 10% i prodotti di largo consumo. Significa, per esempio, pagare almeno il doppio l'acqua minerale. Mica il caviale. Governo bugiardo. E questo l'aumento selettivo? Quello sull'acqua, la verdura e i biscotti? Vergogna. E non perde l'occasione per ironizzare sulla manifestazione del PD a 5 stelle. A sentire di mai i zingaretti sono inventi. Si erano presentate pochissime persone. E sulle manette agli evasori dice, ma non riusciamo a mettere in galera gli spacciatori e andiamo a rompere le palle ai panettieri, ai parrucchieri, agli idraulici. Attenzione, quello che dice sull'acqua è vero. Con la tassa sulla plastica andremo a pagare la bottiglia d'acqua, sapete, la confezione da 6? Di più. 10% in più. Quanto costa la confezione da 6 di acqua? Metteteci il 10% in più. Praticamente è come se compraste mezza bottiglia in meno che va in tasse. Bene, questa era la manovra che guardava al futuro o sta guardando all'acqua minerale che pagheremo di più. Tanto per cominciare. Più tante piccole tasse che non ci daremo. Attenzione, non ci renderemo conto di tutte queste tasse. Vedremo l'acqua che costa di più e diceva, ma l'altro giorno costava 2 euro, adesso costa 2,20 euro. Sì, sai, l'inflazione galoppante, no? Non è l'inflazione galoppante, sono le tasse che hanno messo in manovra. Grazie per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo video. Arrivederci. a tutti. Grazie. Grazie.